Non c'è niente come il tabagismo che impatti così drammaticamente sulla vita sessuale. Il sesso, la vita a letto, è estremamente condizionata dall'abitudine del fumo. Il fumo agisce sulla sessualità in maniera spaventosamente negativa, prima di tutto attraverso i cosiddetti fattori della combustione. I fattori della combustione creano sostanzialmente in maniera molto semplice una riduzione della tensione d'ossigeno, della quantità di ossigeno che arriva ai tessuti. Ci sono dei tessuti che sono più sensibili a questa carenza e il tessuto probabilmente più sensibile è proprio il tessuto genitale. È proprio il tessuto che serve per avere l'erezione e la lubrificazione nel maschio e nella femmina rispettivamente. Non c'è quindi idea più stupida che l'associazione del vecchio cowboy supermaschio con la sigaretta in bocca perché in realtà quella è l'immagine di un impotente sostanzialmente. Quindi tutti gli interventi di sanità pubblica, di attenzione nei confronti del tabagismo sono in realtà degli interventi prosessuali, nel senso che si rivolgono non solamente giustamente alla salute generale della popolazione, ma è questo particolare aspetto della salute generale che si chiama salute sessuale. È un concetto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte ribadito essere parte integrante della salute generale, ce lo siamo un po' dimenticati, ma impariamo a utilizzare proprio questa idea come un'idea fondamentale per intervenire sui nostri pazienti. E dico pazienti non a caso, perché ripeto, quando io vedo una persona con la sigaretta accesa vedo un sesso opatico, oltre che tutto ciò che sappiamo per il cancro, le problematiche tumorali, la problematica radiovascolare, ecco, io vedo un paziente che si sta giocando la sua vita sessuale. E credo che i medici abbiano una responsabilità non banale nell'utilizzare questo argomento per ottenere l'unica terapia del tabagismo che consiste nello smettere di fumare. O perlomeno nel minimizzare il rischio soprattutto di quella componente così attiva dal punto di vista dell'ossigeno che è appunto la sigaretta bruciata, il tabacco bruciato. Perché i prodotti della combustione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare l'FDA americano hanno evidenziato essere i maggiori agenti negativi, patologici del tabagismo stesso.